buon pomeriggio a tutti e buona pasquetta ancora a tutti quanti voi cari amici di barba bianco rossa e benvenuti in questo nuovo video dunque il bari espugna lo stadio druso di bolzano battendo all'ultimo minuto la squadra che ha i nostri stessi colori bianco rossa per una rete a zero rete di moracchioli subentrante nella ripresa palla che è stata toccata anche da seter con un mezzo assist volendo e moracchioli che l'interno destro ha lambito il palo e la palla poi si è insaccata in rete alle spalle del portiere poluzzi dunque quello che contavano in questo questa partita quest'oggi erano i tre punti le emozioni potremmo dire per quanto riguarda la classifica sono arrivate nel finale perché il como che ospitava il genua e che perdeva per due reti a zero è riuscita a pareggiare all'ultimo contro il rosso blu genuani consendendo in questo modo al bari di rosicchiare altri due punti nei confronti dei liguri adesso il bari dista quattro punti dal genoa e quindi è accaduto tutto nei minuti finali dopo che avevamo assistito ad una partita per lo più insomma povera di emozioni povera di anche di gioco volendo squadre che avevano applicato un tatticismo se vogliamo a tratti anche esasperato frutto di squadre che comunque non avevano così tanta voglia di offendere nel senso che nei minuti finali si era quasi capito che si andava verso uno zero a zero scialbo e privo di occasioni da rete nel primo tempo c'era stata un'occasione da parte di foloruccio con un tiro da fuori che è stata deviata dal portiere poluzzi e per quanto riguarda gli altoatesini non ci sono state tante occasioni da segnalare e di rilievo il bari soprattutto poi con i cambi quindi decisivo anche l'allenatore in questo senso nel secondo tempo ha levato che dira e antenucci un po spenti per far entrare seter e il giovane moracchioli c'è da dire comunque che abbiamo perso una pedina importante nella prima parte di gioco che quella del nostro regista e come lo chiamo io il nostro il nostro xavi che raffaele magliello che accusato un dolore al ginocchio ha provato a rientrare ma visto che non era cosa è stato sostituito ben ali ha preso il suo posto quindi come vice regista e come cucitore di gioco come playmaker basso ha fatto le veci di magliello che speriamo rientri il prima possibile quindi nel secondo tempo altri cambi ci sono stati insomma seter moracchioli entrato anche molina per benedetti ma il tutto come detto prima si è svolto negli ultimi due minuti una squadra che probabilmente dopo l'espulsione del giocatore al novantesimo del giocatore del sud tirol forse ha creduto che che potesse far male ancora in quei tre quattro minuti che rimanevano ancora al fine della gara e la fortuna ha voluto baciare noi questa volta con moracchioli che già si era espresso in altre partite in maniera importante quest'oggi diciamo che si è espresso in maniera definitiva ragazzi che altro vi posso dire è tutto è tutto molto bello tutto molto significante perché sono segnali questi anche da cogliere in ottica futura in ottica prossime partite ricordiamo il bari affronterà il como in casa como che ha fermato per l'appunto il genua nei minuti finali quindi non bisogna abbassare la guardia bisogna rimanere concentrati come vedete fino al novantacinquesimo bisogna rimanere concentrati perché le partite oramai per via dei cambi che sono continui durano fino al novantaseiesimo novantasettesimo perciò in qualsiasi modo bisogna tenere la barra dritta e naturalmente mantenere anche una costanza di rendimento ma soprattutto la determinazione la fame per andare a prendere i punti ma soprattutto le vittorie che da qui in avanti pesano e questa di oggi veramente ragazzi è una vittoria pesantissima al di là poi di quello che potrà succedere più avanti se si potranno ridurre i punti nei confronti dei genuani considerando anche l'ultima partita che ci sarà a marassi però questi di oggi sono importanti proprio perché c'è uno strappo nei confronti della quarta in classifica che appunto era il suttiro che adesso sarà è prossimo a due trasferte consecutive contro Ascoli mi sembra è un'altra squadra quindi impegni probanti per loro quindi noi abbiamo anche la possibilità di strappare nei confronti del quarto in classifica ancora di più sabato prossimo al San Nicola contro il Como perciò abbiamo trovato nel luogo di Pasqua quest'oggi Morachioli col suo gol io vi saluto questo era il classico video a caldo magari nei prossimi giorni analizzeremo ancora di più questa partita vi saluto vi esorto come sempre ad iscrivervi al canale di barba bianco rossa lasciare un like ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni contenuto video e fatemi sapere nei commenti il vostro stato d'animo visto che è arrivato tutto nel finale nel giorno di Pasquetta quindi un bel una bella sorpresa abbiamo trovato dentro all'uovo quest'oggi quindi appuntamento al prossimo video sempre ale la baria le vittoria quest'oggi grande morachioli e appuntamento tra domani e dopodomani per il prossimo video un bacio a tutti quanti voi e ancora buona Pasquetta vamos